Niente Latina, niente Pescara, ma solo e soltanto la Virtus Francavilla. Pasquale Maiorino ha fatto la sua scelta, affermorestando che la priorità del fantasista Tarantino è sempre stata piuttosto chiara. Che Laziale ed Abruzzesi nelle scorse settimane abbiano chiesto informazioni all'entourage del calciatore, è vero, ma non hanno mai avanzato una proposta ufficiale al club del presidente Magri e hanno conosciuto la posizione della società bianca-azzurra solo attraverso i nostri siti di riferimento e le nostre trasmissioni, quando il presidente Magri prima e il DG Fracchiolla dopo hanno pubblicamente blindato la stella della squadra dichiarandola incedibile rinnovo. Dunque, fino al 2024 che spegne qualunque sirena di mercato, un prolungamento meritato anche sul campo in queste prime settimane di allenamento, Maiorino non ha risparmiato una corsa, ha fatto vedere buone cose anche nelle prime due partitelle e con Calabro sa di potersi regalare una stagione importante anche un po' più distante dalla porta e centrale nel progetto, la città lo ama e quindi niente di più semplice il continuare insieme e intanto proseguono i lavori in Calabria, giovedì è in programma anche una partitella in famiglia contro la primavera, il direttore generale Fracchiolla e il direttore tecnico Antonazzo, rientrati in Puglia dopo l'amichevole contro il Cosenza, hanno riallacciato i contatti per i prossimi rinforzi, riflettori puntati sul regista ed esterno sinistro le ultime due lacune della formazione titolare.